Siamo arrivati per Valentino e speriamo che oggi vada forte e che si rifaccia alla meglio. Io sono qua per la Duccheasi, tifosi di Valentino. Essendo italiani Valentino Rossi. Deve arrivare prima o poi? Auguro a Valentino una bella gara, comunque vada. Tifosi solo di Vale noi, eh? Ma io tengo per Vale. Quanti anni è che veniamo qua? Dieci anni? Sono nove anni. Nove anni che veniamo. Nove anni di passione. Porta Vale! Dai cazzo, Vale! Buona fortuna anche agli altri piloti italiani, dai. Amore! Avore! Avore! Grazie a tutti.